è una di quelle partire che non potete perdere se avate il calcio se vuoi essere competitivo veramente deve avere una rosa enorme difficile che mentano nel suo caso tratteggiano il profilo di un atleta poi bello e portiere fermo bellissime la porta al fatto da un portiere fermo ci ha fatto un figlio di cui difensore si è lasciato saltare troppo facilmente è stato un gioco da ragazzi puoi battere il portiere MC ciao è uscito vai vai siiii l'ha visto fuori e anche questo va nei best off perché l'ha visto fuori di 5 metri ha tirato campo cazzo centrocampo che ascolto ancora ha fatto pighe ma adesso è casa la formazione avversaria perché è stato italiano ma quanti vita ha fatto è sempre la stessa mamma mia è sempre la stessa video e quella che ha fatto un big ok ma questo non troppa il portiere il portiere è una pippa